Ciao a tutti amici e benvenuti a questa nuova lezione sulle notizie in Italia. Oggi, sempre in collaborazione con il Fatto Quotidiano, che ringrazio moltissimo per la disponibilità di poter ripubblicare i testi che crea, oggi abbiamo delle notizie interessanti, questa è proprio fresca, appena arrivata. Processo Rubi, in questura sapevamo che Karima non era nipote di Mubarak. Quindi, ripeto, processo Rubi, Rubi è una persona, questa ragazza, implicata in un processo legale contro Silvio Berlusconi. E quindi dice, in questura sapevamo che Karima non era nipote di Mubarak. Quindi, significa il processo Rubi, ovviamente stiamo parlando di un juizio legal, e in questura, la questura è proprio dove sta la polizia, praticamente, ok? Seria il centro di comando dentro di una città, quindi si chiama In questura, sapevamo, sabiamos che Karima, questa persona, questa mujer, non era la nipote di Mubarak, ok? Quindi, perché questo titolo? Allora, in passato si è prodotto uno scandalo, si è creato uno scandalo, intorno alla persona di Silvio Berlusconi, che sotto, diciamo, una certa forza politica ha liberato questa ragazza che era stata, diciamo, presa in custodia dai poliziotti italiani in seguito a una situazione poco chiara. In particolare, Silvio Berlusconi, per liberare questa ragazza da una situazione un po' critica, perché la ragazza si trovava al centro di comando di polizia, in custodia, Berlusconi ha inventato, diciamo, una storia fantastica, secondo la quale Karima, questa ragazza, era la nipote di Mubarak. Mubarak, in quel periodo, era proprio il governatore dell'Egitto, ok? Quindi, Berlusconi cercò di liberarla, tentò di liberarla, proprio facendo pressioni politiche sui poliziotti, dicendo che questa ragazza era molto importante, era la nipote di Mubarak e sarebbe, diciamo, si sarebbe creato un problema internazionale, un problema diplomatico e quindi la fece liberare, ok? Quindi la liberò. Allora, adesso, al processo in corso, a Milano, testimoniano i funzionari di polizia in servizio la notte del fermo della ragazza, ok? Luego lo vorrei ripetire con una migliore intonazione, però ora chiedo di essere attenzione a cada palavra. Ci disse che era marocchina, Berlusconi presente in aula, tra vestimenti, solo gare di burlesque. Allora, certamente voi sapete che l'anno scorso, l'anno passato, Berlusconi era il primo ministro italiano, era il capo, il presidente dei ministri italiani, ok? Quindi, cosa succede? Che lui ha un passato molto particolare, perché, diciamo, amava, e credo che tuttora lui ami molto divertirsi con tante donne, diciamo, avere intrattenimenti speciali e particolari e questa ragazza, secondo il giudice, o meglio, secondo l'accusa, in questo processo questa ragazza era, diciamo così, vittima delle attenzioni particolari di Berlusconi che, proprio per non creare scandalo, aveva deciso di liberarla quando era stata presa dalla polizia. Allora, questo sembra un racconto fantastico, è realmente una cosa incredibile, meglio di beautiful, ok? Cosa vuol dire questa parte? La ripeto con la giusta intonazione. Al processo in corso a Milano, testimoniano i funzionari di polizia in servizio la notte del fermo della ragazza. Ci disse che era marocchina. Berlusconi, presente in aula, travestimenti solo gare di burlesque. Cosa vuol dire? Che al processo, o sea, dentro il tribunal, durante proprio il cuizio in corso, a Milano, testimoniano, dan su testimonianza, lo funzionario di polizia in servizio, che stavano in servizio alla noce del fermo. La noce, praticamente, che fu parata, che fu blocata, che fu, diciamo, puesta in custodia, la chica della quale stiamo parlando. Ella nos dijo, questo vuol dire, nos dijo, che era di Marocco, ok? Che era marocchina. Berlusconi, presente in aula, che si encuentra nell'aula del tribunal, dijo, travestimenti, o sea, travestimenti proprio di frasi, solo gare di burlesque. O sea, in questa frase probabilmente lui risponde alle accuse secondo le quali lui intratteneva orge, intratteneva situazioni sessuali, danze erotiche con tante ragazze giovani, e lui dice che erano solamente gare di burlesque. Il burlesque è una particolare tradizione, credo sia nata in Francia, che è proprio questa maniera un po' erotica di ballare, eccetera, e quindi lui tenta di difendersi. Ora, la cosa più assurda è che lui era proprio il presidente dei ministri in Italia, e, diciamo, il problema reale, da un punto di vista legale, è che lui ha esercitato una pressione politica, ha utilizzato il suo potere politico per liberare una ragazza facendo pressione sulla polizia, cosa che chiaramente è illegale. Perché? Perché ha inventato una storia fantastica, dicendo, affermando, che questa ragazza era la nipote di un capo di Stato, che era la nipote, la nieta di Mubarak, e quindi si sarebbe creato, se avria creato, intonses, un caso diplomatico, quindi un caso molto complicato a livello diplomatico. E questo è, diciamo, una notizia, la notizia del giorno. Poi ci sono certamente notizie molto importanti, forse più importanti, perché questo è già come una specie di gossip, no? Gossip è un problema legale, ma diciamo che per adesso la cosa più importante riguarda proprio il lavoro, il lavoro e la precarietà del lavoro, ok? Quindi l'acamusso, che è questa signora, l'acamusso dice sciopero generale, ok? Su articolo 18, partita da giocare. Allora, cosa vuol dire? Sciopero generale vuol dire paro general. La signora Camusso dice che è la partita da giocare, ok? Il partito, tuttavia sai che è jugar, perché probabilmente con questa mobilitazione tenta di cambiare, migliorare la legge. Il problema in Italia, come in molte parti del mondo, è che il lavoro è diventato, si è convertito, è diventato precario. Non esiste il posto fisso, il posto di lavoro fijo, non esiste una solidità, una tranquillità del lavoro, perché è sempre molto flessibile, è sempre molto variabile, è molto facile perdere il proprio lavoro. La leader della CGL, che è l'associazione sindacale, dice, afferma, grazie alla mobilitazione che abbiamo fatto, si è riconquistato il reintegro, risultato che è figlio della lotta. E dello slogan del governo Monti dice, oggi restano solo un rigore, non equo e mal distribuito. Allora, analizziamo la prima parte. La leader della CGL dice, grazie alla mobilitazione, grazie alla mobilitazione Schemo Ecio, si ha conquistato, riconquistato il reintegro. Il reintegro è una forma di, è la possibilità di tornare a lavorare per la stessa azienda dopo un licenziamento senza motivazione. Licenziamento in italiano vuol dire, praticamente, quando una impresa te botta fuori. Quindi, licenziamento è quando una impresa te, praticamente, te botta del trabajo e si chiama proprio licenziare. Ok? Non tiene nada que ver con la licenziatura della quella. Proprio licenziare in italiano vuol dire questa attività di perdere il lavoro perché la tua azienda ti ha buttato fuori. Allora, un attimino che si sta attualizzando la pagina, lo asse sempre. Ok, abbiamo sempre l'articolo qui. Quindi, il reintegro è la possibilità di, in seguito a un giudizio, in un tribunale, per il lavoratore, la possibilità di essere nuovamente reintegrato nel lavoro. Ossia, se ti hanno buttato fuori il trabajo, è possibile reintegrarti quando un juez te diga che si tiene razón perché la persona, la impresa, ti ha votato sin, praticamente, necessità per causas che non sono verdaderas. Il risultato di questa conquista che ha fatto questa associazione sindacale è il figlio della lotta, o sea, hijo della luccia, dice questa persona. E in particolare afferma che Monti, che è l'attuale presidente del Consiglio dei Ministri, in realtà sta utilizzando un rigore, un rigore non equo e mal distribuito. cioè che il presidente Monti sta attuando una politica demasiado rigorosa e sin equità, cioè sin, diciamo, ugualdad e praticamente sta molto mal distribuito questo rigore perché, in poche parole, in poche parole pagano sempre i poveri e invece i ricchi stanno molto bene. Quindi, i ricchi non pagano mai, i ricchi non pagano mai, e questo è quello che sta succedendo in Italia. c'è una politica molto rigorosa che viene pagata solamente, questo grande sacrificio viene pagato dalle persone più deboli, la persona mas debiles. Questo sta succedendo in Italia e in Europa. In Europa, in questo momento, esiste una grande crisi di tipo economico e questa crisi economica ha portato i governi a ridurre, a ridurre, molto reducir, a ridurre le politiche di contributo alla salute, i contributi alla persona, le politiche sociali, ha iniziato ad aumentare le tasse, quindi aumentare l'imposizione fiscale e tutto questo certamente crea molti sacrifici alle persone normali. Qui, immaginiamo, ecco, è scritto uscire dall'euro vota il sondaggio del nostro sito, cioè salir dell'euro vota da sua votazione praticamente il sondaggio, sondaje la inquesta del nostro sito, quindi esistono anche persone che immaginano una possibile uscita dal mondo dell'euro che è la moneta diciamo europea perché ha creato effettivamente secondo alcune persone ha creato molti problemi. Vediamo un attimino per esempio lo spread BTP Bund vola e di nuovo attorno a quota 400, significa lo spread che è la differenza del rendimento dello titolo statale del ministerio del tesoro italianos comparados con gli alemanes vuole, significa che si levanta, questo è un problema, sono i tassi di interesse e di nuovo sta nuovamente alrededor della quota 400, quindi questo è un problema. Il differenziale tra BTP italiani e decennali tedeschi ha aperto a 391 ma sono bastati pochi minuti per farlo schizzare sopra la soia psicologica, quindi il differenziale tra i titoli di stato italiano e invece quelli tedeschi ha aperto a quota 391 che già è un livello alto ma sono bastati pochi minuti anzi sufficientemente poco minuto per esserlo schizzare schizzare è proprio come quando salpicare sopra il limite psicologico del 400 anche in Spagna ci sono moltissimi problemi ah questa era la notizia di ieri che era proprio del partito della Lega ne abbiamo parlato l'altra settimana sono casi di corruzione politica corruzione politica o meglio problemi di trasparenza nell'utilizzo dei soldi del denaro nei partiti politici in poche parole questi articoli dicono Calderoli c'è un'altra casa romana e Bossi che è il leader del movimento della Lega dice quei soldi lecito buttarli che vuol dire Calderoli che è questa persona disse che a El praticamente le hanno incontrato o tra casa o sea esiste hai o tra casa romana in Roma pagata praticamente con il dinero pubblico e Bossi che è il leader della Lega dice aquel dinero ok è legittimo lecito vuol dire legittimo buttarlo o sea che come sono il dinero dello partito ellos pueden decidir hacer lo que quieren si quieren buttarlo pueden buttarlo e nadie le puede decir nada questo è chiaramente orribile immaginando che ci sono persone che muoiono di fame che vivono nella povertà attualmente e quindi è assurdo buttare i soldi perché sono soldi pubblici sono soldi pubblici dell'imposizione fiscale che vanno ai partiti suppostamente è nostro interesse ma in realtà come ven lo utili si impara a finanziare su propria casa e su propria ricchezza ovviamente amici potete immaginare che i quotidiani i periodici in generale riportano notizie quasi sempre negative questo è ovvio questo è normale in tutti i paesi del mondo in america stati uniti panama venezuela brasilia argentina spagna in questo periodo tutti diciamo i quotidiani tutti i periodici parlano sempre di crisi economica di scontri problemi scioperi seriano paro generales problemi nel campo del lavoro si parla di guerre internazionali la guerra in siria afghanistan quindi è chiaro leggere il giornale è un'attività probabilmente non molto ottimista è chiaro mi perdoneranno a volte io tratto di mirare le cose con ironia e con ottimismo però ovvio quando uno se l'è un notiziario alla televisione o un periodico è chiaro che riportano e parlano sempre cose negative cose male e ovviamente corruzione caso di problema economico crisi finanziaria e todas le cose negativi asi che claramente non è mi culpa llevo la culpa per alcune cose però lo che quiero dicir è che per mi è una forma di aiutare con l'italiano e una cosa si se la quiero dicir in italia la cosa mas afortunata che tenemos è che c'è 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 la la delinquenza o la criminalità che existe in altri paesi qui in italia stiamo tranquillamente caminiamo facciamo le cose che vogliamo e non abbiamo che problemi o dubbi sobre che va a passare qualcosa perché è la tranquillità di in italia sinceramente è una gran suerte è un paese molto civil ovviamente ci ci sono negativi però come dire che l'Italia non è cosa che passa a diario perché uccidenti saven che le medias lo canale mediatico la televisione la noticieros tratano sempre un po' to' di lavare il cervello e condicione un po' con le notici negativi però in realtà per eso io trato sempre di las cose con ironia perché la vita di cada uno non sempre tiene que ver con lo che le pasò a Berlusconi o con algunos problemas de guerra en Afganistà o sea claro da tristeza però eso no è lo che praticamente nos toca diario en nuestras vidas però ovviamente seria maravilloso que el mundo fuera un mundo mejor però io en realtà si tengo la fe que las personas son mucho mejores de lo que dicen de lo que cuentan los media o sea yo tengo esta grande fe esta grande seguridad que el mundo está compuesto formado por personas maravillosas únicas y muy buenas estoy cierto de eso la verdad es que nosotros pasamos problemas solo porque una pequeña parte de la población mondial muy pequeña hace cosas negativas en realidad yo tengo muchísima confianza y mucha fe en la humanidad porque creo que lo ser umano sea maravilloso en realidad eso mi convincione es solo una cuestión de ignorancia a veces y de poder corrupto que destrugge el mundo ma esto es un otra questione ragazzi gracias por estar con me ci vediamo la prossima un grande abbraccio a tutti e ringrazio realmente il Fatto Quotidiano per questa opportunità ciao